Senti, dobbiamo collegarci invece con un uomo che ha reso possibile, diciamo così, scroccare da qualsiasi parte del mondo. Anche con un certo tatto e un certo gusto. Sì, non è uno che dà fastidio. No, per niente, ci colleghiamo con Zaffo Zanfagni. La redazione di Coscia Aperte presenta Scrocchignolo Scrocchignolo Settimanale di informazione A cura di Gigi Trombone Pronto? 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 Sì, pronto, buona sera, sono Zaffo Zanfagni, la redazione di Scrocchignolo Mediaset. Pronto? Pronto? Sì, pronto, l'hanno già detto tre volte, che facciamo? Una partita, scusi. Eh? Mi senti? Sì, chi è? Sì, sono Zaffo Zanfagni, la redazione di Scrocchignolo Mediaset. Conosce il programma? No. Non conosce Scrocchignolo? No. Che guarda le mercoledì, venerdì, dalle 17 alle 18? No, no, non lo vede. No, guarda, tiene spesso, lavora lei. Lei, che lavoro fa, macelleggia, polleggia, carneggia, muccheggia? Sì. Sì, ma dai, allora, senta, io con tutta la truppa di Scrocchignolo, domani mattina di 7, 7, 7, 1, 4, 18, 18 e 20, passerò con tutta la truppa a effettuare le riprese della sua attività di macelleggiaio, capisci? Sì. Sì, la prendo lei, mentre lì che taglia il pollo, eh, o di sossa, cioè toglie l'interiore, se magna la bile, se squarta la cistifeglia. E in cambio di questa pubblicità che noi venderemo sui canali Mediaset, grazie a Sembamol, conosce Sembamol? No. Niente Sembamol? Non la conosce? No, no. No, lei che guarda in televisione, scusi? Niente. E le previsioni del tempo? Eh, se piove, pio l'ombrello, se no, eh? E non guardi deficienti, mi stiava. Non guardi deficienti? E ce sa solo quelli in tv, che cazzo fa? Guarda la televisione straniera, allora? C'ha il satellite? Se guarda Playboy? Guarda, c'ho gente, non do servizio. Eppure io, c'ho gente a cena stasera, che gliene frega a lei, vuol venire? Porti una bottiglia di vino. Senta, in cambio di queste riprese, lei c'è dato, diciamo, a titolo così gratuito, del scrocchignolamento? La bistecca, un paro dei petti di bollo, eh? Ma cosa? Non ci interessa, grazie. Che cose non ci interessa? Io dico io, io che faccio le riprese, le mando su Italia 7, Italia 8, lei mi ha dato due bistecche, capisci? No, non ci interessa. Una costata? Una rosto. Ah, ho due atti del macinato. Pronto? Pronto? Sì, buona... Eh, che fa? Gli è scappato il cane? Che ha? Stanno a rapinare? Pronto? Pronto? Ah, ti saluto, ciao, non telefona più, eh? Ma come non telefona più? Pronto? Sono zaffo zaffani. Sì, vabbè. Eh, no, vabbè, non vabbè. Eh? Lei magelleggia, eh? No, io no. Carneggia, petto di bolleggia, eh? No. No? Tacchineggia? Eh. Struzzeggia? Esatto. Ciao, struzzo, lei. Ciao. No, sentivo che c'era la voce da struzzo. No. Ciao. Senta, io con tutta la troupe dei scrocchi... Pronto? A me di questo gli è scappato lo struzzo. Pronto? Pronto? Che? Sì, buonasera. Sono zaffo zaffani, la relazione di scrocchino. Eh, ma c'è la tua bandata? Che è? Che l'è? A bulgaro, lei, scusi. Guardi, che sono un maresciallo di pubblica sicurezza, eh? Che è? Sto andando il numero, eh? Sì, a proietti, a maresciallo Rocca. Ma non dicevo cazzate. Lei magelleggia? Cazzate. Eh, lei magelleggia, eh? No, magelleggia, ma... Ma che lingua sta parlando, scusi? No, ma no. Ma lei è uzbeko, scusi. No, no, no. Ma sei fin in corso da una costina? No, 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 no. No, 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 no. Che bella conversazione. Sì, a mamma da zia, da che facciamo qua? I saluto... Pronto? Ma non è il programma dei Magalli che si può salutare gli altri, scusi? Eh, questi stanno a far piazza Italia. Pronto? Pronto, eh? Ma che cazzo vuoi? Ammazza che gentilezza, vai lavorare in un call center proprio, eh? Eh, mezz'ora sta lavorando, ma che vuoi? Dime che vuoi che sta parlando da scemo, ma che vuoi? Ah, lei magelleggia, eh? Carneggia, polleggia. Ah, basta, c***o, va. Pronto? Ah, se vede che era vegetariano, questo. Questo è Zoo Beste.